Ciao amici, la cosa che cosina di oggi è... Abbiamo a pe... per il mio compleanno spero un sacco di voi ragazzi che mi avete fatto gli auguri perché era il mio compleanno L'altro giorno? L'altro giorno era il mio compleanno e quindi mi hanno regalato questo regalo qui che è stupendo Barbie infermiera Barbie infermiera Che fa parte della linea carriere Sì perché normalmente quando era il mio compleanno ho mangiato una torta con le mie Barbie Adesso l'apriamo e ve la facciamo vedere Eccola qua, l'abbiamo scartata Voi direte, perché c'è questa Barbie e basta Normalmente non abbiamo fatto il tempo perché avevamo fatto un altro video Se non l'avete ancora trovato Basta che scrivete la cosa che cosini di oggi è E vi spunteranno tutti i nostri video E ce ne sono un sacco Quindi se non li avete trovati dovete trovarli Basta che scrivete la cosa che cosini di oggi è Allora vi volevamo far vedere E vi spunta praticamente tutta la linea Allora questa Barbie ha L'assetto scoppio La sua divisa E Gli scarponcini Sì, gli zoccoletti apposta Quelli della dottoressa Normalmente non facciamo E ha anche una fascia per i capelli in questo caso Un elastico violetto molto carino Guarda È vero Infatti sulla scatola anche No, qua non c'è Però C'è questo che ce l'abbiamo È vero E poi nell'altra scatola c'è lei Adesso facciamo uno spoiler di un altro video Perché dopo vi facciamo vedere anche lui E infatti sulla scatola sua C'è lei C'è proprio lei Noi amici vi salutiamo E vi diciamo Di mettere Un bel pollicione Di iscrivervi al canale Mettere la campanella che vi avvisa Quando carichiamo un nuovo video E ci vediamo Nel prossimo video Ciao